La prima vieta che arriverà a questa finale sarà il numero 128. Signori giudici PIN, 3, 2, 1, prego regia. Signori giudici PIN, 3, 1, prego regia. Signori giudici PIN. Signori giudici PIN. Signori giudici PIN. Signori giudici PIN. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.